andiamo stai tranquillo andate qua stai tranquillo 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 è fatta già è fatta già è fatta già yes bellissimo goditela 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 guarda guarda l'orizzonte non guardare in basso guarda l'orizzonte stai uomando spettacolo spettacolo spettacolare spettacolo spettacolo tranquillo respira un po' nella pancia ti fa ok ok a posto ok tranquillo è normale che ti tiro tranquillo non te lo tirare no ehi all'ora come va tutto bene? benissimo se proprio vogliamo dirlo benissimo benissimo bellissimo mamma mia mamma mia che ci pentola Sì, guarda che stanno a cibo, no, 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 no. Allora, vado bene? Tutto bene. Ok. Allora, vedi, questa esperienza è questa. 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 No, 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 no. Prego. Ok. Bellissimo. 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 Bellissimo.